per poter andare a condividere il file su bin server una volta che sei all'interno del tuo archicad vai al menu teamwork alla voce progetto e vai a fare clic su condividi ti si aprirà una schermata dove dovrai inserire l'indirizzo del bin server il nome di login e la password l'indirizzo nella schermata di partenza del bin server viene evidenziato al centro della schermata nel mio caso io ora lo vado a selezionare e lo copio quando sono rientrato in archicad vado a incollare l'indirizzo posso avviare la diagnostica di rete per capire se l'indirizzo è corretto come puoi vedere mi si è aperta una schermata dove mi dice che il server bin è accessibile ora vado a inserire l'utente di login nel mio caso inserisco utente 1 inserisco la password e clicco su login immediatamente mi si apre questa schermata dove ho la condivisione del progetto teamwork ho la possibilità di creare una nuova cartella facendo clic sul pulsante nuova cartella posso eventualmente andare a gestire le cartelle se ne abbiamo già create io ora vado a creare una nuova cartella vado a inserire il nome e clicco su crea in maniera tale da avere all'interno della cartella progetti la cartella che ho appena creato all'interno di questa cartella visto che è selezionata andrò a inserire il mio file da condividere come puoi vedere nella parte sotto viene riportato il nome del file pln che ho aperto posso andare a scegliere quali sono le librerie che dovrò caricare sul bin server in questo caso puoi vedere che verrà caricata la mia libreria AC step by step la libreria Archiclub e la libreria Archicad 20 queste librerie saranno caricate sul bin server e saranno rese disponibili a tutti gli utenti che si collegheranno al bin server ora confermo con ok in maniera tale da caricare le librerie e vado a condividere il file possiamo vedere che è partita la condivisione la prima operazione che Archicad sta facendo sta caricando le librerie sul server questa operazione di condivisione può durare anche qualche minuto dipende sempre dalla pesantezza delle librerie della pesantezza del file ti ricordo che la condivisione del file la puoi fare in qualsiasi momento la puoi fare all'inizio del progetto oppure anche in uno stadio avanzato nel caso in cui hai la necessità che altri collaboratori che lavorano con te ti diano una mano nelle varie operazioni di gestione del progetto una volta effettuata la condivisione come puoi vedere Archicad si è chiuso ed ora si sta riaprendo il file sta effettuando in questo caso il download del documento condiviso in maniera tale da rendermi poi disponibile il file condiviso dal bin server in maniera tale da poterci lavorare ora ha terminato la condivisione mi si è aperto il file condiviso questo messaggio di errore del caricamento della libreria con degli elementi duplicati me lo dava anche in precedenza quando avevo il file pln mi accorgo che sono in un file condiviso nella parte alta della schermata dove ho il nome del mio file con l'indirizzo del bin server e l'utente che è attivo in questo momento ora posso andare nel menu team work a richiamare la palette team work la palette team work la posso eventualmente andare a posizionare nella parte di sinistra dove avrò la possibilità ora di gestire tutte le impostazioni per lavorare all'interno del file condiviso come puoi vedere all'interno della palette team work viene riportato l'utente 1 che è l'utente con cui sto lavorando io sul file condiviso avrò la possibilità di gestire la mia area di lavoro con la possibilità di inviare e ricevere le modifiche la possibilità di riservarmi degli elementi di rilasciare tutti gli elementi in più avrò la possibilità di gestire la colorazione delle aree di lavoro attraverso questo menu dove posso visualizzare tutto il colore originale oppure andare a fare delle scelte sulla base delle mie esigenze di lavoro posso anche andare a evidenziare la mia area di lavoro sotto ho la possibilità di vedere gli utenti collegati al file condiviso e nella parte più in basso abbiamo anche tutti i messaggi che andremo a scambiarci con gli altri utenti